buongiorno benvenuti a questa diretta di oggi martedì 25 settembre grazie a tantissimi che ieri hanno visto quarta repubblica sulla rete 4 piano piano stiamo cercando di costruire la trasmissione e farla in maniera più diciamo congruente alle linee editoriali che mi sono messo in testa io vediamo che cosa è successo oggi sui giornali lo facciamo brevemente perché oggi una giornata di lavoro stiamo preparando matrix per la settimana prossima allora che cosa succede fondamentalmente molto di quello di cui abbiamo parlato ieri sera quarta repubblica cioè il decreto sicurezza oggi il tema del decreto sicurezza cioè non più permessi umanitari o meglio saranno permessi umanitari ridotti soltanto alle vere questioni umanitarie e la revoca dell'asilo per i casi dei reati più gravi cioè due cose secondo me di assoluto buonsenso le critiche di oggi arrivano soprattutto in termini di costituzionalità del decreto nordio sul messaggero ci fa capire unico tra tanti costituzionalisti e magistrati che la costituzionalità di un decreto soprattutto per la questione che ha a che fare con la necessità e urgenza ormai è stata completamente aperta la follia delle decretazioni d'urgenza ed è tutto urgente di 80 euro di renzi e il decreto dignità di maio insomma i decreti d'urgenza ormai sono talmente tanti che sarebbe ridicolo non considerare legittimo costituzionalmente fare il decreto sulla sicurezza e l'immigrazione si critica e lo fa l'avvenire più di tutti in una maniera intelligente ma per me non condivisibile la questione della unire l'immigrazione alla sicurezza come se le due cose non fossero unite dice l'avvenire in questa maniera si criminalizza l'immigrazione questa è la tesi dell'avvenire e sul grande altra critica che viene fatta del sicurezza e sulla sua efficacia cioè sul fatto che rendendo fuori legge certe fattispecie quindi non potendo dare più permessi umanitari per chi viene in italia poi se ne va in vacanza nel suo paese o revocando l'asilo per quelli che sono stati condannati si avrebbe un campo di legalità ma io mi chiedo e vi chiedo pensate un po' un ragionamento oggi si dice che chi viene condannato in primo grado non so per stupro gli si deve revocare l'asilo a parte il fatto che non c'è nulla di incostituzionale perché non lo si mette in galera si dice te ne vai via poi dopo se verrai assolto come detto ieri bene salvini a quarta repubblica puoi anche ritornare in italia perché ci siamo sbagliati quindi non c'è nulla di incostituzionale non si ledono i diritti alla difesa non dobbiamo stracciarci le vesti nonostante noi si sia garantisti ma il punto fondamentale è un altro quando dicono quelli di avvenire che si che c'è minore efficacia in questo decreto perché ci saranno molti più irregolari ma perché quello che ha stuprato ed è fuori dal carcere perché in attesa dell'appello secondo voi quello è una persona diciamo che siamo ben contenti che giri per le nostre strade ve lo chiedo un filo di controllo io nei confronti di quello ce lo avrei o no sul decreto quindi ci saranno pagine pagine di tutti quanti i giornali che spiegano per filo e per segno ma insomma avete capito il senso di questo decreto che per quanto riguarda l'immigrazione vuol dire molto meno facile arrivare in italia come avveniva nel passato e per quanto riguarda la sicurezza qualche norma diciamo un po più dalla parte della polizia o un po meno ad esempio degli occupanti o degli illegali l'altro grande tema di giornata è macron che fino a ieri era il grande nemico dell'italia ma quando ieri improvvisamente decide di aumentare il deficit francese dal 2,6 al 2,8 diventa un grande alleato dell'italia perché dice vedi macron porta il deficit 2,8 e noi ci rompete le scatole a fare il deficit all'1,6 oggi vi segnalo la stampa ad esempio che dice ormai l'accordo c'è e si sarebbe aumentato dall'1,6 all'1,9 il deficit italiano che la differenza tra quanto spendiamo e quanto portiamo a casa come tasse spesa pubblica meno tasse fa il deficit beh il deficit dovrebbe essere meno 1,6 secondo gli accordi europei secondo gli accordi invece che sta facendo il governo in queste ore dovrebbe essere meno 1,9 c'è un deficit quasi al 2 per cento 5 miliardi in più che noi spenderemo ma la vera critica la fassa all'usti dice mentre macron fa aumentare il debito lasciamo perdere che loro hanno un debito pubblico molto inferiore del nostro quindi sapete se fanno un mutuo in più avendo un debituccio un conto ma noi abbiamo un debito che è grande quanto una casa e continuiamo a far debiti un po' pazzarelli saremmo a continuare su questa strada ma qual è l'obiezione che io sottoscrivo al 100 per cento di sallusti che dice se i francesi decidono di tagliare per 25 miliardi di euro le tasse di cui 19 miliardi sono per le imprese quindi loro cosa fanno aumentano un po' il deficit ma per dare una spinta all'economia per produrre di più per lavorare di più per cercare di far crescere il paese no noi sapete perché vogliamo fare più deficit noi vogliamo fare più deficit silvia perfetto chioato lo scrive ora per assistenzialismo cioè per dare la pensione sociale a tutti che si chiama pensione di cittadinanza e per fare il reddito di cittadinanza che vi invito a leggere quello che ho scritto lo trovate sul mio sito i 5 motivi per cui il reddito di cittadinanza oggi è una follia una follia perché non sarà legato al lavoro ma sarà legato al divano quello dove saranno i lavoratori ad aspettare o direi fannulloni ad aspettare che gli arrivino questi 780 euro e chi oggi guadagna 550 chi oggi guadagna 600 una pensione 550 e 600 perché deve lavorare perché si deve fare il culo ma per quale motivo di questo oggi secondo me il pezzo migliore di sallusti il decreto genova una specie di sconosciuto corriere della serie non solo è passato un mese e mezzo e ancora non è stato pubblicato in gazzetta ufficiale cioè consigli di ministri faremo diremo avete presente i film i nuovi mostri dimo famo namo menamo e poi c'è quel grandissimo gasman che da un cazzottone a il parrocchiano e dice ho forse risolto qualcosa andatevelo a vedere i grandi mostri i nuovi mostri una cosa straordinaria namo dimo famo menamo e lo schiaffone di gas ma questo è l'atteggiamento del governo namo dimo famo rompemo togliamo gli e famo e poi dopo dopo un mese e mezzo ancora non ci abbiamo un decreto non ci abbiamo manco un commissario una roba da matti e sull'altra questione di giornata almeno di un paio di giornate sempre si interroga feltri riguardo casalino che dice ma che cosa stiamo parlando questa roba di casalino è solo un cretino e la prende così ma la cosa più bella sono dieci righe con letto sul corriere della sera e che l'ordine giornalisti avrebbe aperto una procedura nei confronti di casalino allora io l'idea che c'è uno dei giornalisti già mi prendono i brividi mi vengono i brividi ma l'idea che quest'ordine giornalisti che serve a zero se non a farmi pagare ogni anno 100 euro si occupi di casalino dopo che per 50 anni tutti i portavoce hanno più o meno fatto questo lavoro solo perché questa cosa qua è stata divulgata la trova cosa disgustosa disgustosa mi piace casalino no mi posso esprimere come si esprime camalino sì perché nelle mie conversazioni private posso dire di tutto e lì faccio il portavoce adesso tutti dei fenomeni di galantuomini non sto difendendo casalino sto difendendo un principio il principio è che nella propria vita privata anche sia sia un ruolo pubblico si possono dire cose in modo non credevole non garbato il punto vero è lo stanno facendo queste purazioni ecco se le stanno facendo e se girano i coltelli allora quello un altro discorso quella è una prova di un comportamento che poi dobbiamo verificare ma se il comportamento non c'è stato zitti e muti o no ultima cosa riguarda la vendita di versace se ne occupano tutti la famiglia venduto per 2 miliardi di euro l'azienda ha una cifra incredibile tre volte il fatturato dice il sole 24 ore mi sembra che sia 700 milioni la venduta a 2 miliardi 38 viglia e 38 volte il margine operativo lordo cioè l'ha venduta stra venduta come se fosse il coin or tutti a preoccuparsi salvini anche da me io vi dico semplicemente che è una minchiata preoccuparsi che i mercati i marchi italiani vadano all'estero perché l'alternativa è che falliscano perché ormai quella era un'azienda da quando era morto il fondatore che vivacchiava avete capito vivacchiava e come dimostrano i casi di volete che ve li cito gucci vivacchiava l'hanno comprata i francesi diventata un caso di eccellenza internazionale continuano a produrlo in italia la san pellegrino questa è l'acqua del sindaco raggi da quando l'ha comprata la nestlé è diventata un'azienda multinazionale la trovi anche su i tavoli dei bar di miami c'è alcune volte sbagliano queste multinazionali altre volte nella moda bottega veneta erano delle borse che compravano in 10 oggi sono diventati un must internazionale perché comprati da una sallusti ha definito il linguaggio mafioso mettetevi d'accordo e qua c'è sempre il cretino ma posso non essere d'accordo con sallusti siete voi che avete sto cazzo di chip nella testa per cui se una cosa dice casalino tutti così se una cosa dice casaleggio sapete cosa c'è che i liberali talvolta tra di loro non fanno d'accordo i liberali hanno libertà di pensiero e non è una critica che io la pensi diversamente da sallusti ti è chiaro perché noi liberali sallusti porro feltri possiamo anche non pensarla nella stessa maniera non siamo dei pecoroni di merda come questo che mi ha scritto c'è la critica qual è che io penso di casalino una cosa diversa rispetto a sallusti è la normalità nel nostro mondo a differenza di questi catto comunisti qua che la pensano tutti nella stessa maniera e se una cosa la ordina il troll di facebook tutti a dire la stessa minchiata chiaro io me la penso diversamente da lui ci può stare sì ci sta versace ve l'ho detto blackstone tra l'altro se ne ha già comprato un quinto della sua società dicevo di versace su questo io vi saluto dobbiamo andare a proprie come si faceva così la versace un'azienda italiana prima della cessione bravo gabriele è di fatti è quello che silvia si non ti cazzare lo so ogni tanto mi prende il coso perché ah la pensi diversamente tra sallusti mettetevi d'accordo no noi non ci mettiamo d'accordo i grillini si mettono d'accordo fico e di maio si mettono d'accordo per dire la stessa cosa io non mi metto d'accordo con il sud con quello che mi pare chiaro chiaro io mi devo mettere d'accordo solo con me stesso e talvolta non ci riesco ciao